Mi spunto. Mi diverto a giocare, a vincere il primo medal d'ora. Quali spunto? Basket. Sono pronti per partire verso gli Emirati Arabi i cinque atleti aretini che prenderanno parte agli Special Olympics Award Summer Game che si svolgeranno ad Abu Dhabi dal 14 al 21 marzo. Si tratta del più grande evento internazionale dedicato alle persone con disabilità intellettiva. Credo che sia un po' il sogno di ognuno di noi che sta dentro questo movimento avere la possibilità che capita una volta sola nella vita di vivere un'esperienza così bella, appassionante, che è un po' il culmine del lavoro che si fa nel quotidiano ma anche delle ore spese come volontari per un movimento in cui crediamo, crediamo nei valori ma che soprattutto grazie al fatto che si sta vicino a persone veramente speciali ci dà anche tanto da un punto di vista umano. Gli sport per i quali i nostri atleti sono convocati sono il basket, Alessandro, Linda per la palla volonificata e Filippo per l'equitazione, ognuno poi con le specifiche discipline. Il calcio Gianluca come coach anche se non giochi, quindi insomma però Gianluca guiderà la sua squadra di calcio e le discipline in totale poi sono 23, è una vera e propria Olimpiade. Tu sei pronto per partire? Vai Filippo. Sei pronto per partire? Non vuoi partire? Parto e... Cosa andrai a fare? La poteva e... Lo sport? L'equitazione. Special Olympics Italia ha anche lanciato la raccolta fondi adotta un campione per finanziare l'adesione dei partecipanti, la Giunta Aretina ha deciso di adottare proprio i due rappresentanti di casa con un contributo di 4.000 euro. Per me ma per tutta l'amministrazione è un motivo di orgoglio perché comunque li abbiamo seguiti, li seguiamo da anni, la loro passione, la loro tenacia li ha portati lontano e la loro volontà. Quindi noi li seguiremo da Arezzo, li seguiremo da lontano facendo un grandissimo tifo un grandissimo tifo, grandissimo e vi aspetteremo al ritorno con le vostre medaglie per cui un grande in bocca al lupo e Arezzo vi guarda.